In un report della Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie e Marittime del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emerge un dato inquietante circa il disastro ferroviario di Pioltello del 25 gennaio 2018 in cui morirono tre persone e circa 50 rimasero ferite. Almeno a partire dal 15 febbraio del 2017, ossia circa 11 mesi prima dell'incidente, erano stati segnalati difetti nel corso delle ispezioni dei tecnici di rete ferroviaria italiana su quel tratto di binario in cui, a causa di un giunto in cattive condizioni, si spezzò un pezzo di rotaia e treno regionale 10452 deragliò. Nella relazione viene spiegato anche che il nuovo giunto isolante da porre in opera per sostituire quello esistente, per quanto riferito dal personale, era stato scaricato lungo quella tratta già nella notte tra le 18 e il 19 dicembre 2017 in attesa del completamento dell'intervento da parte di una ditta esterna, che non avvenne prima dell'incidente, anche perché gli interventi erano sempre stati indicati dai tecnici come non urgenti. Tecnici che non avrebbero coinvolto in maniera adeguata, secondo la relazione, i livelli gerarchici superiori. Nella relazione viene chiarito che gli accertamenti effettuati dal Ministero per chiarire le cause dell'incidente sono indipendenti dall'inchiesta penale aperta dalla Procura di Milano e non contengono documenti o informazioni che ad oggi sono oggetto di segreto istruttorio. Al momento, sotto inchiesta per disastro ferroviario colposo e omicidio colposo plurimo, ci sono due manager e quattro tecnici di RFI e due manager di Trenord. È già emerso però che l'indagine potrebbe allargarsi da altre figure del settore manutenzione di RFI. Proprio oggi, inoltre, la Cassazione ha stabilito che per ottenere risarcimento per lo stress e dei viaggi da incubo non basta aver viaggiato in piedi, su treni gelati d'inverno e torri d'inestate, in ritardo sette mesi su sette, con bagni sporchi e mai un posto libero a sedere, in palese violazione degli standard di comfort del viaggio siglatico alle regioni, respingendo la richiesta di risarcimento per danno esistenziale avanzata da un professionista che tutti i giorni viaggia da Piacenza a Milano. La vita dei pendolari è quindi sempre più amara.